C'è questa è la mia corsia E45, direzione giusta, dall'altra parte un camion in contromano che stavo per prendere in pieno, c'è assurdo, roba assurda, assurdo, impressionante. Attimi di panico questa notte tra gli automobilisti lungo la E45, un camion attorno alle 3.15 ha infatti imboccato la superstrada a contromano, a scongiurare il peggio una volante del commissariato di città di Castello intervenuta a seguito di alcune segnalazioni. I poliziotti sono così riusciti a bloccare il camion nel tratto a retino della E45 al confine tra la Toscana e l'Umbria nel comune di Sansepolcro. Il camion, carico di frutta, è stato fermato in sicurezza nonostante la nebbia e il ghiaccio. Il conducente, residente in provincia di Latina, è stato multato e per lui è scattato il ritiro della patente ai fini della revoca. Dall'altra parte un camion in contromano che stavo per prendere in pieno, c'è assurdo, roba assurda.